Terra di Sardegna, terra tosta, campo difficile, Torres che reduce dalla bella vittoria sulla Carrarlese. Ci sono tutti gli ingredienti per dire un po' le solite cose, partita difficile ma stavolta forse un po' più difficile. Sono tutte difficili le partite, quando parti si sta sempre 0-0 con tutti, non è che c'è quella che dice vabbè facciamoli parti 1-0 per loro, si parte e si sta sempre 0-0. Loro hanno vinto a Carrarlese, hanno vinto anche una bella partita perché ultimamente stavano facendo un po' più fatica, ma no nel gioco anche come partita in se stessi, abbiamo visto qualche partita, erano anche abbastanza sfortunati perciò si sono rimessi in linea, no? Questa è una squadra che deve salvarsi, è una squadra che sta facendo il suo percorso, è una squadra che ha delle individualità importanti come Scattini e Diakite davanti, è un ruoco che a volte si danno il cambio. Sono una squadra tosta, una squadra quadrata, una squadra di categoria dai. Siccome per quello che conta, le studio anche io le squadre, ho visto che sono bravi su calci piazzati dove c'hanno Liviero che c'hanno Dal Mancino, calcia bene. Sui calci piazzati palla inattiva si decidono molte partite, vi siete preparati anche su questo chiaramente. E dove? Negli schemi difensivi, nel come sapere. Capito. Non vengo a fare il tuo lavoro. Volevo sapere, sono cose che avete studiato nei dettagli. Sappiamo che sono bravi, sappiamo che hanno due o tre giocatori che sono forti fisicamente, anzi a D'Antonelli, a Pinna, a Diakite, lo stesso Scattini. Non è che gente che di te stanno a prendere, hanno una buona struttura, sono fastidiosi. Liviero lo conosco, l'ho allenato, perciò so che è bravo con i piedi, ma grosso Mancino. Al di là di tutto, quando va a preparare una partita, prepari nel globale, prepari come atteggiamento quello che vuoi fare te, quello che ti possono permettere anche gli altri di fare te. Perché poi in campo siamo due, dipende anche dalle loro condizioni. Una partita si decide su tanti piccoli fattori, perciò. Da parte nostra si sono allenati tutti, stiamo abbastanza bene, ci sono delle defezioni. C'è Ponini che è squalificato, c'è Artisti che ha un problema e forse ci potrebbe essere un altro problema, ma in questo momento qui poi ve lo comunico al dottore se il problema è serio, se no, verrà via anche lui. Non mi chiede il giocatore perché... Mi sembra che non l'ho chiesto. No, ma non sta a me dirlo, cioè qui c'è uno staff sanitario. C'è una brava, sì, per carità. No, ma qua è fra che c'è uno staff sanitario è giusto che se deve comunicare qualcosa lo faccia lui. Quindi è Ponini disqualificato. E poi mi hai detto? Artistico. Artistico ormai è lungo decente. Artistico, c'è questo problema, perciò il processo potrebbe essere, ma speriamo tutti di no, un piccolo problema per un ragazzo. Adesso la domanda è scontata, sono pagato per farla. Che atteggiamento avremo come modulo? Pensi di cambiare o abbiamo assunto una fisionomia? No, no, strano. Vediamo le nostre cose, in base a chi andiamo a giocarci contro. L'ho detto sempre, abbiamo due moduli di riferimento e a seconda di quello che al momento ci dà più garanzie per interpretare una partita lo mettiamo a campo. Gubbio non c'entra niente, fai lezioni a Coverciano dei due moduli, quale Piero Braglia preferisci? In assoluto non c'entra niente Gubbio, è una cosa proprio a livello accademico. A parte che io a Coverciano ci vado. No, non ti fanno entrare. Ho già capito, perché mi devi fare queste domande? No, vabbè, sei alla sorbona del calcio se non è Coverciano e ti dicono fra questi due moduli in assoluto qual è secondo lei il migliore. Ma non c'è il migliore. Cioè quello è il momento della gara. Cioè qui si parla di moduli, di riferimento, anche l'anno scorso mi chiedevano sempre che modulo giochi, ma l'hanno chiesto fino a che poi si andavano sulle palle a tutti, no? Ma perché è così? Questo è il messaggio subliminale. No, ma no, ma è solo una tranquillità, guarda proprio, che per me non è importante il modulo, è importante l'atteggiamento che si può nella squadra, l'atteggiamento di quello che uno vuole fare a un ragazzo della propria vita. Qui si parla tanto di moduli, ma non... Moduli è il calcio. Se non li cambi due o tre volte durante una partita, quando ti prendono le misure, che fai? Rimani attaccato al modulo perché te giochi in una maniera, allora gli dobbiamo dare un riferimento. Ancora, il calcio è cambiato. Il calcio è cambiato e si evolve continuamente. È chiaro che se le cose vanno bene nessuno le va a toccare le cose, no? Ma se a te le cose non ti girano bene, stai soffrendo, per dire... Con la re canatesa abbiamo cambiato un sacco di volte, ma il prodotto non è cambiato. Ha fatto una partita del cavoletto e ha perso meritatamente. Perciò i moduli non servono per far parlare, ma non... Poi è tutto come uno riesce a stare a coprire il campo. Il modulo è quello che copre meglio il campo, quello che ha dato gli spazi, quello che riesce a far giocare a meno gli altri, di più te. Si parla sempre di questo, ma no. Ma la tua intelligenza calcistica... Lo dico in numeri. No, no, lo dico io, lo dico in numeri. Allora, i numeri dicono che sei intelligente calcistico. Sì. Premessa questa. Uno contro uno a tutto campo e adesso Gasperini ci ha fatto il famoso soldi, eccetera. Però tu hai ventina d'anni che fai questo, eh? No, di più. Eh, appunto. Di più. Gasperini era a Crotone e io ero a Catanzaro. Lui è arrivato secondo e io sono arrivato primo. Poi lui è salito con i play-off. Ma già lì si vedeva l'allenatore che è poi diventato. Sì, sì. Perciò non è che... Lui era sempre... Era difficile perché tirava pochi riferimenti davanti. Perciò ha fatto un campionato, è un percorso che doveva fare perché per me è veramente bravo. Anche secondo me. Perciò io da parte mia ho fatto quello che dovevo fare io. Non si sta a vedere... Non puoi avere rimpianti quando alleni da 33 anni di continuamente. Perciò... Ognuno poi c'ha il suo carattere. Ognuno si pone in una certa maniera. Ognuno vede le cose in una maniera. Quello... In separata sede ti dirò cosa mi ha detto un calciatore che tu hai allenato. E mi ha detto se aveva il carattere di Gasperini era il nazionale. Sì, vabbè. E come quando giocavo me lo dicevano, se avevi un'altra testa giocami il nazionale. Io penso che ho giocato il Serie A. Mi sono divertito, sono stato bene. O almeno dalla vita, che è quello che mi piace. Ma perché poi devi andare a vedere o quantificare le cose, ma no. Se uno vive di rimorsi, vive male. Io vivo bene, cioè nella mia vita ho fatto quello che secondo me dovevo e potevo fare. Sai che diceva un grande allenatore del passato. Più che allenatore era il condottiero, Caio Giulio Cesare. Meglio primi nel proprio villaggio che secondi a Roma. Questo non lo so, Caio. Queste sono le cose che ha studiato te. A me mandava la terza media fatica per disperazione. Il pericolo più grosso della Torres che ci può creare. Qual è? Il pericolo più grande è che sono una buona squadra. Sono una buona squadra, se non prendiamo la partita in una certa maniera rischiamo. Ultimamente siamo diventati più intelligenti nel gestire la gara. Siamo diventati più bravi a iniziare la gara con un certo piglio che poi fanno le squadre importanti. poi è chiaro che non ci siamo solo noi in campo. Noi dobbiamo non sbagliare la partita. Noi dobbiamo fare la partita che dobbiamo fare e poi vedere alla fine quello che ci si presenterà dal campo. perché poi è sempre il campo che decide il tutto. Noi dobbiamo essere all'altezza. Poi vediamo. Stiamo diventando più bravi a iniziare la gara, un approccio migliore, come le squadre importanti devono saper fare, non dobbiamo sbagliare. Di tutti i 19 giocatori che hai perso l'artistico, quello che ti fa volare di più qual è? In questo gruppo? Bulevati. Di solito gli allenatori normali si trincerano dietro al fatto. Ma nessuno. Bulevati. Perché? Perché è un capone. Perché ha mezzi incredibili. Esatto. Poi è un centrocampista, lui si nasconde dietro al fatto dei 3, dei 2, dei 27, sono tutte calzate. Io, giocatore, devi vedere se sai giocare a calcio? Sì. Basta. Poi ti devi adeguare. Corri? Sì. E allora qual è il problema? Se è a 26, 27 anni, come è adesso Danilo, non riesce a gestire certe situazioni, vuol dire che dove si trova in questo momento qui è meritato da parte sua. Perché lui ha mezzi anche per poter fare una categoria superiore tranquillamente. E questo so, conoscendoti da tanti anni, so che se lo dici lo pensi. No, lo penso, ma gliel'ho già detto a lui. Ah, no. Ma l'ho lasciato fuori anche per 3 o 4 partite proprio per vedere se si incazzava un pochino e se la smetteva di fare calzate, monta sopra il pallone, tocca una volta di più. Centrocampista non esiste. Centrocampista è quello che gioca in funzione della squadra. Ultimamente è cambiato però, eh? Sì, corre. E se no lo levo. Lui ha due possibilità. O gioca in una certa maniera o sta fuori. Finché gioca come sta giocando, gioca perché corretti da quella qualità che forse poi in mezzo al campo ci mancava. Però non deve. È un ragazzo che può fare molto di più, un ragazzo un po' particolare perché è particolare Danilo nel suo complesso. Però è un buono, è un buonissimo ragazzo. Però deve capire che sono anni importanti per non sbagliare più niente. Che poi quando si smette di giocare è dura. Perciò io mi auguro che capisca che è tutto quello che uno anche l'altro giorno ha fatto girare parte perciò perché gli ho detto oh e ti ributto fuori un'altra volta. Perciò vediamo. Hai allenato grossomodo 20.000 giocatori, più o meno adesso, i numeri non contano. Ce n'è uno che te lo ricorda del passato? Di Danilo? Eh. Una voglia. Però sono sicuro che... Oh, con caratteristiche diverse. Ecco, però sono sicuro che ci siano rimasti un ottimo rapporto comunque. Ma io non tendo a avere rapporti quando vado via. Non voglio avere rapporti con i ragazzi, non mi interessa di farlo un passato. Sì, sì, ma infatti sto parlando dei ragazzi che ho allenato io. Se poi un giorno gli fa piacere manderanno un messaggio oppure faranno una telefonata. Non ha senso, cioè vai a rimangare una cosa che finché vivi nel presente va tutto bene ma dai guarda avanti, se guardi nel passato e ti ricordi del passato sei già morto. No, ma dico, come calciatore, chi è che te lo ricorda un calciatore? Ma io ti ripeto, ce ne può essere tanti. Ce ne può essere tanti, mi ricordo qua. Uno è anche qua un capone come De Simone. Aveva altre qualità. Anche lui era tosto, eh. Lo dovevi far cavolare. Poi Mario Fieri, ce ne stai tanti. Tanti, tanti, giocatori forti, eh. Quelli che ho nominato ora. Alfieri e Desimoni c'era. No, no. A livello di C e B, tanta roba. Tanta roba. È così. Mister, buon viaggio. Grazie anche a voi. No, no. No, no, no. Ch Plaid Christopher. Un Salto'da!" Ch Plaid Fu G Grazie a tutti.